Se ti dico quanto ha contato lui il fatto che io facessi rap nella vita, questo no, perché io sono sincero non sono stato, cioè non ho scoperto il rap con Eminem. Con chi l'hai scoperto? Con Marra. Cioè ho scoperto, allora la verità è questa, io ero, stavo andando in vacanza con i miei in macchina in Sicilia e praticamente volevo il disco di fibra, ok? Gli dico a mia mamma di andarmelo a comprare all'autogrill, mia mamma mi fa non c'è quello di fibra, c'è quello di Marrakesh, ti ho preso questo. E io al tempo non lo conoscevo, metto quel disco e da lì è come se mi si fosse aperto il mondo. Ma poi parlava in una canzone, mi bastavano le briciole, parlava di me che stavo andando in vacanza con i miei in macchina. E lì ho capito che, io mi ricordo che quel giorno in macchina io cercavo di scrivere sopra le canzoni di Marra, cercavo di scriverci sopra. Capito? Scrivevo delle cose perché anche io volevo fare quella roba, era troppo figa.